Tutti i membri della Chiesa credono nelle stesse verità, si accostano al medesimo altare, ispirano le proprie azioni agli stessi principi morali. La Chiesa è una. Il Concilio Vaticano prima insegna affinché tutta la moltitudine dei credenti si conservasse nell'unità della fede e della comunione. Il Cristo propose agli altri apostoli il Beato Pietro, stabilendo in lui il perenne principio e il visibile fondamento dell'una e dell'altra unità, cioè unità di fede e di comunione. Unità di fede, cioè quello che crede il battezzato italiano lo crede l'africano, l'intiano, il giapponese. L'unità della comunione consiste da una parte nella sottomissione dei fedeli all'autorità dei Vescovi e del Papa e dall'altra nella unione dei membri tra loro mediante la partecipazione ai mezzi di grazia, liturgia, sacramenti eccetera. Il desiderio di rinnovare l'unità di tutti i cristiani è un dono di Cristo e un appello dello Spirito Santo. La Chiesa è santa. La Chiesa è santa nell'origine, nel fine, nei mezzi, nei frutti. Santo è il fondatore Gesù Cristo Signore e lo Spirito Santo che è l'anima. Santo è il fine, la gloria di Dio e la santificazione dell'uomo. Santi sono i mezzi per raggiungere il suo fine, parola di Dio, i sacramenti e la santa messa. Tutti i cristiani sono chiamati alla santità, che consiste nell'amore di Dio e dei fratelli. Dalla santità della Chiesa non deriva che i colpevoli di peccati gravi cessino di appartenervi. Io ho scritto un libro dal titolo La Chiesa madre di santi e di peccatori. I peccatori quindi fanno parte della Chiesa insieme ai santi. La Chiesa è composta di persone ancora in gammino, soggette di voltare le spalle a Dio. La Chiesa in forza dello Spirito Santo è preservata da una defezione totale e le porte degli inferi. Il male non prevarranno su di essa. La Chiesa è cattolica. La parola cattolica significa universale, vuole indicare la missione della Chiesa. Essa è cattolica perché deve annunciare la totalità della fede, inoltre cattolica perché Cristo volle che la sua Chiesa abbracciasse tutti i popoli del mondo. Al nazionalismo giudaico, egli sostituì l'universalismo cristiano. La Chiesa particolare è la Diocesi, porzione del popolo di Dio affidato alle cure pastorali di un vescoo condivato dal presbitero, dai presbiteri. All'interno della Dioce si colloca la parrocchia, comunità dei credenti, idonea a celebrare l'ecolistia, guidata da ministri, ordinate e collaboratori del vescovo. Papa Giovanni XXIII ha una bellissima definizione della parrocchia. La chiamava la fontana del villaggio alla quale tutti ricorrono per la loro sete. La Chiesa è apostolica, Gesù fonda la Chiesa sugli Apostoli, conferendo loro il triplice ufficio di insegnare, governare e santificare. Negli Apostoli è Gesù che continua la sua missione. Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Il loro ministero è quindi alla continuazione della sua missione. Chi accoglie voi, accoglie me.